La seconda religione mondiale, la religione universale del mondo in cui si crede tanto universalmente quanto il denaro, è il concetto errato noto come autorità. L'autorità è un'illusione della psiche umana malata che si basa interamente sulla violenza ed è costruita sulla convinzione erronea e dogmatica che alcune persone sono i signori che hanno il diritto morale di impartire comandi, mentre gli altri sono schiavi che hanno l'obbligo morale di obbedire a questi signori. Questa è la religione conosciuta come l'autorità ed è una falsa religione. Le religioni mondiali, denaro e autorità. Questa è la struttura che li rappresenta. Si tratta di una struttura gerarchica a compartimenti stagni in cui siamo governati da quel dio conosciuto come denaro. Sotto ci sono le persone che dicono ti governiamo, gli autoritari.